Siamo con il Vescovo di Monavava, Monsignor Angelo Spina, per non lasciare incompiuta la nostra cronaca del viaggio che c'è stato a Bogotà, un viaggio apostolico missionario. I pellegrini sono tornati venerdì sera, facciamo il punto della situazione, un bilancio. Il bilancio è senz'altro positivo perché non è stato un viaggio turistico, ma è stato un cammino, soprattutto di conoscenza, di incontro, di solidarietà e di scambio, di aiuto tra le Chiese. Ciò che ha connotato questo cammino è stato appunto l'incontro fatto di preghiera, fatto di carità. L'incontro con le diverse diocesi, quella di Bogotà, di Cichinchirà e poi anche quella di Cartaghenia e di Stminatadò, con quest'ultima con cui abbiamo fatto il gemellaggio, sono stati incontri molto fortuosi che hanno messo in dialogo la Chiesa diocesana di Sulmona Valva con queste Chiese della Colombia. Un incontro, come dicevo, fatto di esperienze, di preghiera e di aiuto. Non è tanto importante ciò che si dà, ma è grande ciò che si riceve. Questo gemellaggio è nato dal fatto che noi abbiamo dei sacerdoti colombiani in diocesi, adesso ne abbiamo tre. Ci siamo posti una domanda, come ringraziare questa terra colombiana per il dono di tre sacerdoti? Abbiamo pensato appunto ad un gemellaggio con questa diocesi di Stminatadò, nella regione, possiamo dire, nel comprensorio del Ciocò, una terra un po' abbandonata dalle istituzioni che presenta molte criticità di povertà. Lì abbiamo voluto promuovere un'opera che già in parte è realizzata, cioè due grandi saloni, che serviranno per la promozione della donna, perché la donna vive situazioni molto difficili. Il tema è questo, che c'è la carità, la fede e la speranza. La fede sta al principio, la carità è il compimento e l'opera, in mezzo c'è la speranza. La fede e la speranza passeranno, la carità resterà perché Dio è amore. Allora quest'opera non è tanto fare qualche cosa per gli altri, ma è restituire agli altri ciò che Dio ci ha dato. Ed è bello che questo non lo fa il Vescovo, ma lo fa un'intera diocesi. Hanno collaborato tutte le parrocchie a questo progetto, tutte le parrocchie della diocesi, che durante l'Avvento hanno fatto una raccolta, ma oltre alla raccolta la preghiera e la comunione. E poi l'impegno della Caritas diocesana per questo progetto. Quindi è una chiesa intera che si è mossa, unita al Vescovo, per un'opera così grande, restituire a Dio ciò che Dio già ci ha dato. Non sono mancate anche difficoltà lungo il cammino. Sappiamo che qualcuno del gruppo ha riportato talli e scoriazioni, ma fa parte dell'avventura, possiamo dire. Sì, il gemellaggio è avvenuto con la città di Istmina, in modo particolare, che conta 30.000 abitanti, con un punto che sta proprio al centro città, ma è un punto abbandonato. Il sindaco mai aveva visitato quel quartiere, venendo con noi ne ha preso coscienza. Si chiama Sant'Agostino, questa parte della città di Istmina. Ma poi siamo andati attraverso la foresta, nei villaggi, e attraversando i fiumi in due punti. Certamente la popolazione lì è afro, gli schiavi portati dall'Africa, che poi si rifugiarono in questo territorio, e anche la popolazione indigena. Certamente attraversare la foresta, camminare in macchina su strade non asfaltate, ma terrose, brecciate, avvallate, attraversare i fiumi, questo comporta dei rischi e dei pericoli. Ma la fede sa far guardare oltre. È bello l'incontro con queste popolazioni afro e soprattutto con quelle indigene, che hanno tanto da insegnare ad ognuno di noi, sia dal punto di vista della fede che dell'umanità.